No justice no peace, studenti e studentessi italiani in piazza per manifestare solidarietà al movimento di protesta che attualmente sta scuotendo gli Stati Uniti e per portare un movimento, una mobilitazione, un'andata di mobilitazione antirazzista in tutto il mondo, in tutta Europa e anche in Italia, dove la discriminazione razziale è tanto forte quanto in tutto il resto del mondo e passa da questa fomentata guerra tra poveri che tanto piace alla gestione degli Stati di tutto il mondo. In Italia il razzismo è dilagante, oggi come non mai, la paura dello straniero, l'odio fomentato contro lo straniero sta alla base della gestione di tutti i governi che si sono susseguiti negli ultimi vent'anni. Siamo oggi qui in piazza per rilanciare anche il grande presidio di protesta che ci sarà domani in piazza Duca d'Aosta, non un momento solo per ricordare i morti dovuti all'odio razziale degli Stati Uniti come in Italia e in tutta Europa, ma un momento di protesta perché non ci sia più bisogno di studenti e studentesse che scendono in piazza a inginocchiarsi con lo sguardo fisso e incazzato perché rifiutano lo stigma della discriminazione etnica che c'è stato passato dalla storia e dalle generazioni a noi precedenti. È inutile, è troppo facile appellarsi alla pace sociale senza una vera giustizia sociale in tutto il mondo e finché non ci sarà giustizia sociale, non ci sarà neanche la pace sociale. Oggi, domani e per sempre, no justice, no peace. No justice, no peace! 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 Grazie.